Allora, ciao ragazzi, benvenuti alla parte della video lezione sui calcoli e le formule è stata messa prima la video lezione registrata di calcoli e formule perché ho avuto problemi con la video lezione precedente dove rilevavo le misure dove analizzavamo l'apparato nella realtà e lo mettevamo in opera quindi prima vedrete questa sul sito e poi vedrete quell'altra, però non vi preoccupate, metterò tutto mi scuso ulteriormente per il ritardo ma ho avuto seri problemi con le registrazioni, registravo e il microfono non andava quindi che significa? Significa che ho dovuto rifare tutto, beh, quindi state riascoltando me riregistrato Allora, siamo alla seconda parte della rotale a coscienza d'aria abbiamo raccolto i dati sperimentali, tutte le classi hanno raccolto i loro dati sperimentali e quindi cosa è successo? Abbiamo avuto i seguenti valori come potete vedere, a 60,0 cm, quindi la prima misurazione abbiamo questi tempi alla seconda misurazione, quindi l'altezza, quindi la misura numero 2 altezza 95,0 cm della seconda fotocellula, questi valori e così via ricordando inoltre che S0, cioè la partenza di cronometrazione non è a 0 ma a 25,0 cm quindi andremo a rianalizzare ciò che abbiamo ottenuto in classe i seguenti valori, quindi che cos'è il delta S, che cos'è il delta T medio farò un esempio io con la prima misura e voi dovete riapplicare altre S ovviamente dovrei rimettere anche le formule, però le formule dovreste conoscere allora andiamo a vedere quindi adesso le formule calcoli che vi ho detto e avevo stoppato e c'è stata una breve interruzione per chi mi telefonava comunque, allora, abbiamo i dati innanzitutto abbiamo lo spazio finale, lo spazio iniziale e quindi analizziamo la prima misura e i primi tempi, innanzitutto abbiamo tantissimi tempi 0,386, 0,384, 0,384, 0,377, 0,385, 0,389, 0,394 e 0,383 ovviamente sapendo dell'anno scorso che se abbiamo tante misure di una solida cosa abbiamo uno strumento, sappiamo già che dobbiamo usare due strumenti specifici valore medio e errore assoluto andiamo adesso quindi a trovare valore medio e errore assoluto dei primi tempi quindi misura 1, tempo 1 medio e errore assoluto 1, chiameremo così errore assoluto t1 quindi allora, copiamo la tabella che ci tornerà altamente comodo ma vedo già che ha fatto casino quindi ctrl copy, ctrl v eccola qua un po' piccina e l'angrandiamo allora, abbiamo la nostra tabella, abbiamo i nostri dati adesso che facciamo? facciamo il calcolo della media qualcuno o un'altra classe è venuto leggermente diverso ma alla fine veniva solida azzurro però per un piccolo errore di approssimazione veniva leggermente diverso il valore non approssimato ma dopo veniva a modo il valore giusto insomma il valore finale approssimato ma insomma seguitemi, mal di poco troviamo quindi il tempo 1 medio il tempo 1 medio com'è quindi? è 0,386 più 0,384 più 0,384 più 0,377 quindi la somma dei valori diviso il numero dei valori più 0,385 più 0,389 più 0,394 più 0,383 diviso il numero di valori che sono 1,2,3,4,5,6,7,8 diviso 8 e facciamo quindi la media guardiamo un po' 0,386 più 0,384 più 0,384 più 0,384 più 0,384 più 0,384 più 0,384 più 0,377 più 0,385 più 0,389 più 0,389 più 0,384 più 0,383 diviso 8 che fa? vediamo un po' se ho fatto bene i calcoli ok ho fatto questo piccolo errore vi rifaccio velocemente i calcoli vediamo un po' quindi che viene circa rifaccio in scena dei calcoli 0,385 che approssimato in base alle regole di approssimazione che bisogna considerare la sensibilità dello strumento più spreciso del calcolo quindi in questo caso sono tutte misure temporali quindi arriveremo al millesimo di secondo quindi tre cifre dopo la virgola quindi considerare sempre lo strumento più spreciso viene 0,385 circa 0,385 secondi il valore medio alla misura 1 è 0,385 è lo stesso che abbiamo trovato nel laboratorio l'errore assoluto come sarà? ecco sapete è che l'errore assoluto t1 quindi misura del tempo 1 sarà valore massimo che è 0,394 meno valore minimo che è 0,377 tutto diviso 2 quindi vediamo un po' se torna 0,394 meno 0,377 che fa 0,017 diviso 2 che fa 0,0085 che di nuovo approssimato sempre a tre cifre dopo la virgola viene 0,009 qui si è fatto il saltino perché il numero successivo all'ultima cifra di approssimazione è maggiore o uguale di 5 quindi bisogna fare aumentare l'unità quindi se la cifra successiva dopo l'approssimazione è maggiore o uguale di 5 bisogna aumentare il valore di 8 quindi l'ultimo valore approssimato di un'unità quindi 0,009 secondi abbiamo quindi trovato il primo valore T1 uguale a 0,385 più o meno 0,009 secondi questo è il nostro primo valore infatti l'abbiamo messo qua ecco un'altra cosa da calcolare è lo spazio lo spazio percorso nel rilevamento temporale del tempo quindi lo spazio è vi ricordo il ragionamento che sarà fatto è questo il carrello ve lo faccio in blu il carrello parte all'altezza di 0 cm con la bandierina a 0 cm quindi qua c'è il nostro fantastico carrello accelera poco prima della prima fotocellula smette di accelerare va con un moto costante quindi ricrea abbiamo ricreato un moto costante imperturbato quindi tolto l'attrito e via discorrendo all'altezza di 25,0 più o meno 0,2 cm quindi a questa altezza S0 dopodiché abbiamo smesso di cronometrare a un'altezza di nel caso della prima misura di S1 uguale 60,0 più o meno 0,2 cm eccoci qua quindi che significa? significa che il delta S dobbiamo calcolare lo spazio effettivamente cronometrato dalla fotocellula lo spazio che rappresenta effettivamente il rilevamento temporale perché lo spazio che è tra le due fotocellule è semplicemente S1-S0 quindi delta S che chiameremo delta S1 cioè lo spazio che è stato effettivamente cronometrato durante il passaggio del carrello quindi dove il moto era imperturbato quindi delta S1 vi ricordo che nelle somme e le differenze va fatto semplicemente quindi questa è una somma una differenza di misure dirette quindi nel caso di somme e differenze si prende il valore i valori puri senza errore quindi 60,0 meno 25,0 vi invito a riguardarvi le slide e le dispense sull'errore se non vi ricordate queste cose quindi bisogna prendere semplicemente i valori senza errore assoluto e infatti viene 35,0 cm mentre l'errore assoluto di delta S1 essendo una sottrazione è semplicemente la somma dei singoli errori assoluti quindi 0,2 più 0,2 cioè 0,4 0,2 uguale 0,4 cm eccoci qua quindi alla fine delta S1 sarà completo 35,0 più o meno 0,4 poiché nelle somme e nelle differenze si sommano gli errori assoluti regola che avete imparato l'anno scorso centimetri infatti di nuovo avevamo già vista la lezione che il delta S era 35,0 nel caso della prima misura nella seconda misura quanto sarà? sarà 95,0 meno 25,0 l'errore invece per tutte le misure S0 è sempre 0,2 per tutte le altre misure è sempre 0,2 quindi qui l'ho fatto già un calcolo io potete ripetere una volta per farmi capire che avete capito non è quando farete la relazione però sostanzialmente è sempre 0,4 quindi perché è sempre 0,2 più 0,2 nel delta S adesso guardiamo un po' anche se non abbiamo fatto tutti i calcoli possiamo dire qualcosa che per tutte le misure quindi 60 95 130 165 205 se aumento lo spazio mediamente aumenta anche il tempo perché prima è circa 0,385 nel secondo caso mi pare che la media è 0,777 dovrebbe tornare circa così nel terzo caso non me lo ricordo ma è circa 1,165 forse a vederlo così ad occhio quindi che possiamo dire che più aumenta lo spazio allo stesso tempo aumenta anche il tempo dall'anno scorso vi ricordo che avete studiato una caratteristica importante cioè che avete studiato voi avete studiato due proprietà importanti delle misure quindi la proporzionalità proporzionalità diretta e la proporzionalità inversa quella diretta cosa diceva? che il rapporto fra x se c'è un rapporto x fratto y è sempre uguale a k cioè che se io aumento k aumenta anche y e il loro rapporto è sempre costante era il caso questo era il caso della legge di Hooke la legge di Hooke cosa ci diceva? ci diceva che se avevamo una forza esterna quindi la forza di gravità dei pesetti quindi era tipo questo col pesetto quindi la forza di gravità fratto l'allungamento era uguale a una costante definita costante di Hooke se io aumentavo il pesetto quindi mettiamo un altro pesetto si aumentava di nuovo l'allungamento si allungava la mola si allungava di più e la nuova forza di gravità con due pesetti fratto il nuovo delta L era sempre circa uguale al solito k che era nuovamente la stessa costante quindi proporcionalità diretta quindi se aumenta uno un valore aumenta anche l'altro il loro rapporto è costante e invece la proporcionalità è inversa che avete visto un pelino meno cosa diceva? era quella del momento per esempio che nel caso di una bilancia a braccia uguali c'aveva un momento fisso da destra e un momento variabile a sinistra che dicevo che il momento era costante che F per B qui anche qui è un modulo F quindi il modulo della forza per il braccio quindi che era perpendicolare per il braccio era uguale a una costante cioè il momento era sempre costante noi che avevamo avevamo qua un pesetto sempre alla solita distanza si metteva il dinamometro a varie distanze rispetto al culcro e vedevamo che più il braccio aumentava più aumentava il braccio più la forza segnata dal dinamometro diminuiva Fd l'abbiamo chiamato quindi che più il modulo della forza del dinamometro diminuiva cioè che più aumentava la leva più la forza per mantenere costante quindi bilanciata la bilancia a braccio quali quindi la bilancia si non è a braccio quali la bilancia rimaneva costante l'alta leva quindi più aumentava il braccio più la forza diminuiva è come la chiave inglese più la chiave inglese è lunga più meno duro fatica a svitare la vite cioè più la chiave inglese è lunga io duro meno fatica a svitare ad esempio un bullone questo nella vita regale uguale quindi questa è la probabilità inversa più aumento il braccio meno forza mi ci vuole per svitare una vite per esempio e quindi era quest'altro ragionamento come possiamo rapplicare questi due ragionamenti nel nostro caso abbiamo visto che si aumenta lo spazio aumenta anche il tempo quindi non può essere una proporzionalità inversa la nostra ipotesi non può essere una proporzionalità inversa perché si aumenta la aumenta anche lo spazio percorso il delta s aumenta anche il tempo quindi il delta t il tempo misurato quindi che significa significa una cosa semplice significa che se aumenta lo spazio aumenta anche il tempo non può essere una proporzionalità inversa e l'unica ipotesi che possiamo fare che è una proporzionalità diretta cioè che significa significa che delta s 1 fratto delta t 1 t 1 medio come vi pare la media del tempo 1 è uguale a delta s 2 cioè lo spazio tra le due fotocellule 2 diviso il tempo medio 2 che è uguale a delta s 3 così via delta t 3 questo l'abbiamo chiamato t 1 medio noi all'inizio così t 1 medio è il nostro t 1 medio all'inizio l'ho chiamato delta t 1 potete chiamarlo t 1 medio come vi pare più correttamente sarebbe delta t 1 medio magari m però va bene anche t 1 l'importante è che siano giusti i calchi fratto delta s 4 diviso delta t 4 quindi uguale a delta s 4 cioè il numero della misura 4 lo spazio percorso tra le due fotocellule 4 cioè che sarebbe 165 meno 25 che è uguale a delta s 5 fratto delta t 5 che è uguale a una costante noi faremo questa ipotesi e se aumenta lo spazio abbiamo visto che se aumenta lo spazio percorso aumenta anche il tempo impegato quindi ipotesi di proporzionalità diretta noi stiamo ipotizzando la proporzionalità diretta in particolare che stiamo ipotizzando stiamo ipotizzando che se aumenta lo spazio aumenta anche il tempo questo è evidente ma l'aumento è determinato da una proporzionalità diretta cioè che i loro rapporti al valore della misura sono sempre circa costanti questo si traduce in un grafico che oltre che il valore dovrà avvenire circa costante ma anche in un grafico che è una retta passante nell'origine quindi realmente noi avremo tanti valori e dovremo sperare che quindi metteremo sulla scissa il tempo quindi un secondo e sull'ordinata lo spazio delta S in centimetri e dovremo sperare che il nostro grafico quindi la nostra retta passi all'interno dei quadrati degli errori cioè mettendo gli errori su spazio e su tempo devo sperare che la retta passa all'interno del quadrato quindi se ci passa abbiamo dimostrato la legge perché significa che la legge è verificata ora magari ci sta qui un punto S preciso e quindi venga spostato ma se quasi tutti i punti rientrano all'interno della retta quindi fanno passare la retta all'interno del proprio rettangolo degli errori significa che la nostra ipotesi è verificata quindi vi ricordo velocemente la proprietà è diretta quindi si aumenta un valore aumenta anche l'altro il rapporto è costante graficamente si traduce in una retta passante per l'origine siccome però le nostre misure sono reali non passerà perfettamente per tutti i punti ma l'importante è che passi all'interno dei quadrati poi se un valore salta un po' più in giù un po' più in su mal di poco vuol dire che avrà un errore un po' più alto però se per quasi tutti i punti passa la retta significa che la nostra legge è verificata quindi è quello che faremo ma adesso un ultimo ragionamento guardiamo un po' guardiamo un po' se sta ancora registrando mi è scomparso la registrazione aiuto sì spero di sì se il nostro valore quindi se lo spazio è 60 guardiamo un po' se aumento lo spazio aumento anche il tempo ma il loro rapporto è costante ok e noi abbiamo creato un esperimento che verifichi che il moto tra le due fotocellule sia costante cioè imperturbato cioè un moto rettilineo uniforme cioè un moto dove la velocità il vettore velocità il moto è imperturbato cioè non varia mai una volta che accelera una volta che passa per la prima fotocellula quindi passa per la prima fotocellula voglio che non cambi mai cioè non sta cambiando mai cioè noi abbiamo creato che cosa? lo ripeto scarrella accelera quindi per mezzo del pesetto prima della prima fotocellula smette di accelerare va con una velocità costante quindi viene cronometrato tra la prima fotocellula e la seconda fotocellula e il tempo quindi durante il passaggio tra la prima alla seconda fotocellula ha un moto costante ma se la proporzionalità è diretta se stiamo potizzando una proporzionalità diretta cioè che il rapporto tra spazio e tempo è costante e stiamo studiando un moto costante allora che significa che delta S fratto delta T è la rappresentazione del nostro moto costante che significa quindi che la nostra K sarà se è vera la nostra ipotesi sarà la nostra velocità perché l'accelerazione è sempre la solita stiamo variando solo lo spazio se aumenta lo spazio tra le due fotocellula aumenta anche il tempo quindi ma il loro rapporto è costante il rapporto tra spazio e tempo sarà la nostra velocità perché se è costante vuol dire che il rapporto è costante ma anche la velocità che abbiamo ricreato è costante perché l'abbiamo imposta noi quindi il rapporto tra spazio e tempo se è vera la nostra ipotesi di proporzionalità diretta corrisponderà proprio alla velocità del carrello in tutte le misurazioni perché l'accelerazione è sempre la solita quindi la velocità è sempre la solita quindi quello che verificheremo noi è la legge che rilega spazio e tempo con la velocità se è vera se è vera questa ipotesi che viene la retta che è la proporzionalità diretta allora quello che troveremo è la legge della velocità nel moto rettiline uniforme ok quindi questo è quanto abbiamo calcolato le nostre tabelle quindi la tabella di dati elaborati abbiamo trovato il caso della prima misura a voi lascerò il resto avete capito se è fatto quindi basta semplicemente riapplicare i soliti ragionamenti a tutte le altre misure nella prossima lezione parleremo del grafico delle conclusioni vedremo come verrà il grafico ragioneremo sulle conclusioni se è verificato o non è verificato se siamo stati precisi e così via dopodiché dovrete fare la relazione quindi abbiamo ancora un'ultima lezione da questa e poi relazione mi raccomando quindi le formule quali sono? le formule sono del valore medio dell'errore assoluto ah e anche dell'errore relativo come potete vedere la velocità ha un errore relativo del 3,51% come l'ho trovato l'errore relativo? l'errore relativo è semplicemente errore assoluto velocità media tratta l'errore assoluto vediamo velocemente come si fa anche qua che è importante facciamo anche il calcolo della velocità cioè guardiamo un po' abbiamo trovato il delta S1 e abbiamo trovato il delta T1 manca ancora il delta T1 medio T1 medio chiamato che è un po' quello che vuole fare ci manca la velocità media o VM1 velocità media allo stadio 1 e l'errore assoluto della velocità quindi ci mancano questi due valori noi abbiamo fatto l'ipotesi che il delta S1 è uguale a delta T1 che è uguale a una costante che ipotizziamo che sia anche la velocità cioè VM1 ma siccome questa è una misura indiretta ottenuta per prodotto per divisione allora che significa? significa che anche questa ha un valore medio e un errore assoluto però in questo caso VM1 quanto sarà dal dispense dell'errore e dalle cose che abbiamo fatto l'anno scorso sappiamo che essendo un oggetto calcolato una misura indiretta ottenuta per divisione o moltiplicazione in questo caso divisione avremo che il valore sarà VM1 max la netta al massimo e al min VM1 max più VM1 min fratto 2 mentre l'errore assoluto sarà di VM1 sarà il valore massimo VM1 max meno VM1 min diviso 2 quindi il valore da considerare sarà la media tra il massimo e il minimo e invece l'errore assoluto sarà il semidisperzione quindi valore massimo meno valore minimo diviso 2 tra il massimo ma se la formula di VM1 se la formula della velocità abbiamo ipotizzato che sia delta S fratto delta T ok o T1 medio come vi pare che significa che VM1 max quanto sarà sarà lo spazio più alto possibile fratto il tempo più piccolo possibile perché questo che è delta S1 max fratto delta T1 min perché vogliamo che la misura sia la più alta possibile quindi il numeratore deve essere il più alto possibile e questo che significa che è 35,0 più 0,2 cioè più l'errore assoluto vogliamo il valore più alto della nostra stima fratto 0,385 meno l'errore assoluto cioè il valore più basso della nostra stima cioè 0,009 eccoci ok quindi guardiamo un po' era 0,385 meno 0,009 e invece lo spazio 35,0 più 0,4 ho scritto bene? 0,4 non 0,2 scusate 0,4 che significa quindi perché è 0,2 più 0,2 che significa quindi che il nostro risultato sarà 35,4 diviso 0,376 che fa 94,148 no è b 94,14893 dobbiamo approssimare in questo caso utilizzando la cifra più sprecisa cioè una cifra significativa dopo la virgola cioè dobbiamo troncare 4 siccome questo valore è 4 l'1 rimane così quindi viene circa 94,1 qual è l'unità di misura? è sopra abbiamo i centimetri quindi centimetri sotto abbiamo i secondi quindi il risultato è centimetri fratto secondi cioè 94,1 centimetri fratto secondi ragionamento inverso sarà per la velocità del media 1 minima perché vogliamo il valore più piccolo possibile quindi sarà delta s 1 minimo quindi il valore più basso la nostra stima più bassa possibile dello spazio fratto il delta t 1 massimo perché vogliamo dividere il più possibile e quindi al denominatore va messa la misura più alta possibile quindi quanto verrà sarà 35,0 meno 0,4 fratto 0,335 più 0,009 che si traduce in che cosa? si traduce in 34,6 diviso 0,394 che fa 87,82 approssimato 87,82 anche qua bisogna troncare la prima cifra significativa perché lo strumento meno preciso si ferma a una cifra significativa dopo la virgola quindi il valore verrà 87,8 di nuovo centimetri fratto secondi e a questo punto il giochino è quasi fatto perché il valore medio 1 da considerare sarà 94,1 la media 94,1 più 87,8 diviso 2 cioè la media tra massimo e minimo appena mi si dà la mostra 94,1 meno 87,8 no 94,1 ce la faccio più 87,8 diviso 2 che fa circa 90,95 quindi viene 90,95 bisogna approssimare una cifra dopo la virgola questo valore è maggiore o uguale di 5 quindi aumenta tutto e viene circa 91,0 centimetri al settore invece l'errore assoluto sarà valore massimo 94,1 meno valore minimo 87,8 diviso 2 cioè facciamo il calcolo 94,1 meno 87,8 diviso 2 che fa 3,15 ma siccome anche qui bisogna approssimare una cifra dopo la virgola in linea con lo strumento meno preciso quindi viene circa 3,2 centimetri al secondo quindi la nostra Vm1 sarà totalmente 91,0 più o meno 3,2 centimetri al secondo che corrisponderà a un errore relativo di V1 quindi o anche percentuale adesso lo vediamo quindi sarà Vm1 fratto errore assoluto 1 chiamiamolo V1 chiamiamolo V1 errore assoluto di V1 sarà 93 no ho fatto al contrario allora scusate sarà allora 3,2 ce la faccio sarà errore assoluto V1 così la formula non vi sbagliate non fate come me errore assoluto della velocità 1 fratto la velocità media 1 cioè 3,2 diviso 91,0 che fa 0,035 cioè un errore di circa 3,5 per cento eccolo qua 3,51 come vi pare 3,5 che vi ricordo l'anno scorso essendo l'errore relativo maggiore dell'1 per cento è una misura abbastanza sprecisa non male ma comunque un po' sprecisa va bene penso di aver detto tutto si è calcolato delta di medio quindi la somma dei valori diviso il numero dei valori temporali l'errore assoluto tempo massimo 1 meno tempo minimo 1 diviso 2 il delta S cioè la distanza della seconda fotocellula nel primo caso diviso meno lo spazio la partenza quindi meno la partenza quindi la prima fotocellula 25,0 quindi spazio finale della prima misura 60 meno spazio iniziale prima fotocellula 25 quindi 35,0 l'errore assoluto la somma dei singoli errori assoluti dello spazio quindi 0,2 più 0,2 la velocità media facendo il valore massimo della velocità e il valore minimo della velocità la stessa cosa per l'errore assoluto e la velocità media nel primo caso e l'errore relativo della velocità quindi si è fatto tutto per dubbi mandatemi un'email se avete qualcosa quindi appunto mandatemi un'email e appena posso vi rispondo e arrivederci grazie